E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e benvenuti in questa nuova recensione. Voi dovete sapere che in questo Gio di Spyro 2, visto che stiamo parlando del livello ghiacciaio cristallino dopo aver raccolto il talismano, ora vi insegnerò come si fa a vincere una sfera. Un tempo organizzavamo dei tour guidati in queste grotte, ma ora sono infestate da piragna. Prima o poi quelle bestiagge conquisteranno un intero villaggio, ci faresti il favore di eliminarle? Certo, volentieri. Voglio dare una mano a eliminare i piragni. Fantastico, ma ricorda devi catturarvi alla svelta perché quelli che restano continueranno a moltiplicarsi. Avete sentito ragazzi, dovete arrostire tutti i piragni usati in potenziamento supervolo. Con questo potenziamento supervolo dobbiamo ammazzare tutti i piragni, ma hanno uccisi tutti e 18, dovete catturarli tutti. Non dovete mai lasciarne vivo qualcuno, sennò continuano a moltiplicarsi. E se li uccidete tutti in un solo supervolo guadagnerete un trofeo, ve lo prometto. Abbiamo vinto una sfera ragazzi. Gira i salvati da un fato orribile. Ti prego accetta questa, è un piccolo segno della nostra gratitudine. L'accetto subito questa sfera. Arrivederci a tutti ragazzi, vi saluto. Ora mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Condividete il video se vi è piaciuto. Avrai anche coni gelato gratis tutte le volte che vieni a trovarci. Ed è se Dio che ha detto sciamano tic, avrete anche coni gelato gratis. Vabbè, arrivederci a tutti. Vabbè, arrivederci a tutti.